guardate quanto è bella la nuova chant defy advanced prozero e costa soltanto ve lo dico dopo questa belva monta un gruppo shimano utegra di 2 11 velocità ovviamente gruppo completo con anche la guarnitura guarnitura che ha anche una chicca ovvero il misuratore di potenza power pro direttamente costruito da giante misuratore di potenza che misura la potenza espressa da entrambi i pedali perché ha un sensore anche sulla vetivella sinistra telaio ovviamente in carbonio passaggio cavi completamente interno ruota in carbonio marchio jant slr1 tubeless copertoni già tubeless sempre jant da 28 mm guardate che spettacolo colorazione total black con questi riflessi delle scritte perlati ovviamente freni a disco idraulici manubrio jant tutti i fili passano qua sotto una bici pensata per le lunghe distanze per l'endolanza per terreni un po più sconnessi una bici da fiandre da rubè e una bici non neanche troppo pesanti considerando i freni a disco questa si ferma a 7,8 kg in taglia media con pure misuratore di potenza quindi un peso buono direi sicuramente un peso buono che diventa ottimo se pensiamo al prezzo questa bici costa solamente 4800 euro che per una bici con un cambio con un cambio ultegra elettronico per una bici con i cerchi in carboni freni a disco e un telaio di questo livello è veramente veramente poco guardate che linea a me piace tantissimo voi che ne pensate grazie a tutti